Dal Vangelo secondo Marco «Lo dobbiamo dare o no?» Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse «Perché mi tentate? Portatemi un denaro perché io lo veda». Ed essi glielo portarono. Allora disse loro «Di chi è questa immagine e l'iscrizione?» Gli risposero «Di Cesare». Gesù disse loro «Rendete a Cesare ciò che è di Cesare, e a Dio ciò che è di Dio». E rimasero ammirati di Lui. Grazie a tutti.